Il prossimo iPhone 6 avrà un nuovo design e in base a un nuovo report dovrebbe avere uno schermo più grande e il pulsante del touch ID sul lato. Oggi voglio dirvi tutte le ultime notizie del nuovo iPhone 6, inclusi la data di rilascio e il prezzo. Quindi, ad essere onesti, molti di noi sono rimasti molto delusi dal modello del 2022. Infatti, gli unici cambiamenti sono stati il 5G e un processore più potente del 3% rispetto alla generazione precedente di iPhone 6. Se già non lo sapevate, ci sono stati in tutto 3 modelli di iPhone 6. Abbiamo avuto il primo nel 2016 e questo si basava sul design di iPhone 5S. E poi, nel 2020, abbiamo avuto la seconda generazione di iPhone 6 che si basava sul design di iPhone 8. E poi, lo stesso design è stato utilizzato per l'iPhone 6 del 2022. Da quello che abbiamo visto, i modelli 6 tendono ad avere all'interno l'ultimo processore dell'iPhone che è uscito l'anno prima con un prezzo però più basso. Quindi, guardando la quarta generazione di iPhone 6, la buona notizia è che avremo grandi cambiamenti. Questa volta, il modello del 2023 avrà un design completamente nuovo. Ross Young ha appena detto che la prossima generazione di iPhone 6 avrà un display più grande e ci è stato anche rivelato che il display sarà da 5.7 o 6.1 pollici. Con questi due display è probabile che il prossimo iPhone si baserà sul design di iPhone X o quello che è stato utilizzato su iPhone 11 o altrimenti potrebbe eseguire il design di iPhone XR. Dal 2021 abbiamo sentito dire da molte fonti che il prossimo iPhone 6 potrebbe avere il design di iPhone X o quello di iPhone XR. Tuttavia, Ross Young ha postato un tweet più aggiornato che ha detto che Apple produrrà un iPhone con un display da 5.7 pollici e questo modello si basterà su iPhone X. Ma c'è anche la possibilità che non avrà il Face ID al suo interno ma invece avrà il design con una fotocamera al centro a forma di pillola simile a molti telefoni Android e potrebbe avere il Touch ID sul pulsante di standby come già abbiamo visto su iPad mini e iPad Air. Ma lui è l'unico che riporta questa notizia. La cosa interessante è che la prossima generazione di iPhone 6 avrà un design totalmente nuovo e sembra che lo schermo sarà più grande di un pollice rispetto all'iPhone 6 che abbiamo adesso e per questo moltissimi non vedono l'ora di metterci le mani. Andiamo avanti e parliamo della data di rilascio. Ma prima facciamo un veloce riassunto di quando è uscito ogni modello di iPhone 6. Quindi la prima generazione di iPhone 6 è uscita il 31 marzo del 2016 e poi nel 2020 l'iPhone 6 successivo è uscito il 24 aprile e infine l'ultimo modello di iPhone 6 è uscito il 18 marzo del 2022. Quindi come possiamo immaginare la data di rilascio sarà probabilmente all'evento di primavera. Il motivo per cui questo ha senso è che Apple di solito utilizza l'altra parte dell'anno per lanciare gli iPhone principali. Quindi per esempio nel 2022 l'iPhone 14. Infatti Apple non vuole mettere a ripentaglio le vendite di iPhone 6 lanciandolo insieme agli iPhone principali. L'anno dell'attuale data di rilascio si basa sugli anni in cui sono state rilasciate le precedenti generazioni di iPhone 6. Infatti si distanziano tutti di due anni. Quindi è probabile che la quarta generazione uscirà nel 2024. Tuttavia le vendite dell'attuale terza generazione di iPhone 6 sono state molto poche e non molte persone hanno deciso di comprarlo e hanno deciso o di prendere la seconda generazione o comprare ad esempio un iPhone 12 mini dato che hanno lo stesso prezzo e uno schermo più grande di iPhone 6 2022. Quindi in base a questo la data di rilascio del prossimo iPhone 6 potrebbe essere nella primavera del 2023. Andiamo avanti e parliamo delle specifiche del prezzo della prossima generazione di iPhone 6 e il miglior modo per farlo è realizzare una tabella di quello che sarà il nuovo iPhone 6. iPhone 6 di quarta generazione avrà un display da 5.7 o 6.1 pollici. Questo sarà un display LCD e sarà molto simile a quello che abbiamo sull'attuale modello di iPhone 6 e che abbiamo anche avuto su iPhone 11 e iPhone XR e il display LCD avrà un refresh rate di 60Hz con una risoluzione di 2532x1170 pixel. Purtroppo non c'è alcuna possibilità di avere il promotion. All'interno di questo iPhone 6 avremo 4GB di RAM e lo spazio di archiviazione sarà di 128GB e 256GB. Poi probabilmente avremo come processore la 16 Bionic con connettività 5G. La 16 è lo stesso processore che avremo su iPhone 14 e probabilmente sarà messo anche all'interno della prossima generazione di iPhone 6. Il corpo sarà realizzato in alluminio e sul retro ci sarà probabilmente una fotocamera singola da 12 megapixel se si baserà sul design di iPhone XR o altrimenti potremmo avere una doppia fotocamera se il design si baserà su iPhone 11 e questa sarà composta a due lenti di cui una wide e un ultra wide. La batteria al suo interno sarà di 3310mAh che è molto più grande di quella che abbiamo sull'attuale iPhone 6 e questo è molto interessante da sapere. Il modello base di questo iPhone con 128GB di spazio di archiviazione costerà 429$ e quello con 256GB 529$. Quindi questo è quello che per ora sappiamo della prossima generazione di iPhone 6 e andando avanti nel tempo avremo un'immagine sempre più precisa e completa di questo iPhone. E se volete rimanere aggiornati sugli ultimi leaks e rumors a tema Apple assicuratevi di iscrivervi al canale e cliccare la campanella delle notifiche. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao!